Gentili telespettatori, buona giornata. Lo sconsolato Matteo Bassetti, ex Virostar, oggi in astensione televisiva e da giornali, ci parla della peggiora ondata dell'era moderna, l'H1N1. Come al solito su queste cose abbiamo un Bassetti che ci dice che è una cosa terribile, abbiamo altri che ti dicono no, guardate che è una roba normale. Noi che non siamo dei medici, dei primari o chissà quali luminari della medicina, ascoltiamo Bassetti allarmato, poi prendiamo un altro giornale, c'è un altro che dice sì vabbè ma tranquilli, è nella media, non c'è niente da preoccuparsi, quindi alla fine poi non sappiamo realmente quello che succede perché ci sono persone che fanno lo stesso lavoro e hanno delle versioni diametralmente opposte, come direbbe il Conte Mascetti agli antipodi, con scappellamenti a destra. Dice Bassetti siamo di fronte alla stagione influenzale peggiore dell'era moderna. Parola di Virostar al Tgcom24. Bassetti che non è quello dei piumoni ma è quello del Covid. Matteo Bassetti, non i piumoni Bassetti. Lui, l'abbiamo detto tante di quelle volte, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Dice che ci sarà una grandissima circolazione del virus. Avere 15 milioni di italiani a letto nell'ultimo mese non è un bene, anche perché sono forme che si prolungano nel tempo. 15 milioni? Volete dire che un italiano su sei è a casa, con l'influenza? Mi sembra un numero un po' alto. 15 milioni su 58 milioni vuol dire più di uno su sei a casa. Sarà. Prendiamo sti dati per buoni. Come vi dicevo prima, non sai mai le cose esattamente. Ma lui dice che a fronte di un tale numero di contagi, dice Bassetti, i casi gravi e i ricoveri sono nella norma. Ah, ok, allora adesso diciamo che sono nella norma. Quindi è la stagione influenzare peggiore dell'era moderna, allarmi, allarmi, però poi diciamo che i casi gravi e i ricoveri sono nella norma rispetto agli anni precedenti. Quindi nessun particolare allarmismo. Ecco, l'influenza H1N1 si definisce suina perché è la cosiddetta pandemica del 2009 che deriva in qualche modo dai maiali. Maiali? Nella trasmissione umana questi animali non c'entrano e ormai il ceppo di influenza A che da 15 anni è predominante nel mondo. Si chiama suina perché all'epoca fu per qualche motivo chiamata così ma che non ha niente a che vedere con quella che può essere l'influenza dei maiali. Ecco, così abbiamo imparato che l'influenza suina non c'entra niente con i maiali. Dice Bassetti, intervistato questa volta da fanpage e aggiunge ogni anno dal 2009 a oggi abbiamo sempre avuto persone che hanno avuto forme più gravi di H1N1. Abbiamo avuto persone anche decedute per questa infezione e che sono andate in rianimazione. Non c'è nulla di preoccupante salvo il fatto che quest'anno ci troviamo alle prese con una stagione influenzale particolarmente pesante. Ma non perché ci sono tanti casi gravi ma perché ce ne sono tanti. Ecco, questo è il punto. Ce ne sono tanti ma non sono gravi perché ci sono più o meno lo stesso numero di ricoverati quest'anno che l'anno scorso però quest'anno i casi di influenza sono molti di più. ADH1N1 sono molti di più. Quindi vuol dire che essendoci più casi ma sono più o meno come l'anno scorso quelli in ospedale vuol dire che l'incidenza e la pericolosità di questi che abbiamo appena parlato è inferiore al passato. È perlomeno comunque una buona notizia. Abbiamo spiegato, dice Bassetti, che no anzi torniamo indietro. Diceva un'altra cosa. Dovremmo aspettare ancora questa settimana perché è probabile che il ritorno a scuola dei ragazzi abbia fatto da volano alla circolazione ulteriore del virus influenzale. Potremmo avere già raggiunto il picco ma starei ancora un po' ad attendere a vedere che cosa succede nei prossimi 15 giorni. È evidente che basta sentire amici e parenti per capire che c'è una quantità di gente affetta da forme di infezione respiratoria che non si era mai vista prima. Abbiamo spiegato sin da subito ai cittadini che l'influenza si deve curare a casa e parlando con il medico di base non vorrei che i due decessi di cui si è parlato nei giorni scorsi portassero ad iperafflusso nei nostri ospedali. Non ci si deve allarmare. Dobbiamo dire però alla gente che bisogna tirare le orecchie a chi non si è vaccinato perché in quel caso si tratta di decessi rubati. Quindi persone che non sarebbero dovute decedire. decidere. Va bene. Allora io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una meno di un'ora, una cinquantina di minuti. Ricordatevi che poi di là su Teleitalia Seconda Rete c'è anche lì un video. Questi video Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete li sto condividendo tutti nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia e anche nella pagina di Twitter Oggi X che si chiama Luca Vincitore Teleitalia e poi sulla pagina di Triaz a nome Luca Vincitore. L'ho aperta da una settimana, ci sono proprio pochi iscritti, 42 perché l'ho aperta proprio da poco. Non ho idea neanche se questo Triaz sia seguito, non seguito. Comunque vedo che lì come al solito ci sono tutti i politici. Hanno aperto tutti subito il profilo. Grazie nuovamente e quindi poi da questi social se voi volete potete condividere questi video. Anzi mi fate un favore perché la condivisione è fondamentale per farli conoscere. Senza condivisione non si va da nessuna parte. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie.